Lunedì 16 settembre all'interno della Sala degli Specchi del Palazzo di Città di Bitonto si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della folta delegazione bitontina che parteciperà alla Roma Half Marathon via Pacis e tutte le iniziative collaterali che accompagneranno la presenza alla gara podistica del gruppo di Bitonto. Una grande occasione per promuovere la nostra città, io ho ringraziato i nostri atleti spero che uno di loro trionfi nella marcia, nella maglietta è tutta tinta di nero verde c'è scritto Bitonto ovunque, siamo stati veramente cinici, biechi nello sfruttare la loro immagine però lo facciamo per il bene della collettività. La Roma Half Marathon via Pacis è una suggestiva corsa su strada che tocca i principali luoghi di culto della capitale e le bellezze del centro storico con partenza e arrivo in via della conciliazione a pochi passi da piazza San Pietro. In contemporanea domenica 22 si svolgerà anche la Run for Peace una corsa camminata non competitiva di 5 km aperta a tutti. Si tratta dunque di una importante iniziativa che ha lo scopo di favorire l'integrazione tra le diverse comunità religiose. Quest'anno partecipa anche l'Associazione Nazionale dei Comuni in virtù dell'accordo di programma in essere con la FIDAL per la promozione tra i cittadini dell'attività atletico-sportiva e di base che ha invitato a gareggiare sindaci e amministratori comunali i quali, correndo la mezza maratona, si contenderanno i premi previsti per i tre classificati della speciale categoria a loro riservata. È un progetto simbolico, importante. Abbiamo risposto all'invito del Lanci che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha invitato gli 8.000 comuni a partecipare a questa mezza maratona sono 21 km per le strade di Roma dedicata alla pace e al dialogo tra i popoli. Abbiamo ritenuto opportuno e doveroso parteciparvi non solo come amministratore ma anche come delegazione della città perché la nostra città reca nel suo cartiglio dello STEM un invito alla pace quindi ci sembrava opportuno cogliere questa occasione per portare un messaggio di pace ci saranno 40 concittadini tra corridori e passeggiatori che faranno parte di questa delegazione quindi è una bella esperienza anche per promuovere il buon nome della città della pace, dell'olio, dell'arte, della cultura e del turismo visto che la maglia che vedete ha dietro un invito sul retro un invito a visitare la città, a visitare le sue bellezze turistiche quindi è un modo anche per promuovere questa città in un contesto internazionale dove ci saranno più di 14.000 tra atleti e passeggiatori All'incontro con i giornalisti sono intervenuti il sindaco di Bitonto dottor Michele Baticchio, gli assessori comunali Rino Mangini e Domenico Nacci oltre al consigliere della Fidal Puglia Roberto Annoscia con loro gli atleti e i presidenti delle tre società podistiche cittadine Bitonto Runner, Bitonto Sportiva e Nuova Atletica Bitonto Fra i rappresentanti che abbiamo intervistato anche Nicola Lavacca fiduciario Coni che ci ha spiegato la sua versione in merito Il comune di Bitonto ha avuto questa idea brillante secondo me di aderire con gli atleti che parteciperanno che come ho anche rimarcato prima sono atleti di tutti i giorni cioè che si mettono in gioco, che hanno questa grande passione di gareggiare senza alcun interesse ma di andare verso la conoscenza dei propri limiti per certi versi e che comunque anche in questa occasione secondo me daranno il meglio di loro stessi Credo di fare il boccalupo a tutti questi nostri concittadini molti sono miei amici che si misureranno con atleti di tutto il mondo parteciperanno da ogni parte del mondo e quindi sicuramente un evento nell'evento e anche da un punto di vista personale credo un'esperienza che rimarrà indimenticabile perché correre per le strade di Roma è sempre bello e emozionante